Brutto incidente per lo chef della prova del cuoco Natale Giunta, che è stato sottoposto a un'operazione dopo essere caduto dal suo monopattino per le buche nelle strade palermitane. Una città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro, grazie per come gestite la strada, le buche. Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque, scrive su Instagram il noto cuoco. Lo chef infatti stava viaggiando sul monopattino quando è caduto a terra a causa di una buca che, come scrive l'Ansa, si era formata in strada attorno a un tombino per la mancanza di manutenzione negli anni e per le piogge di queste ultime settimane. Raccontare l'accaduto è stato fortunatamente lui stesso che su Instagram ha postato una foto del volto ferito e del viso pieno di fasce, a seguito dell'operazione a cui è stato sottoposto per i vari traumi subiti. Grazie per la visione!